Al via sabato 5 novembre la 45esima edizione della Fiera Campionaria di Vittoria presentata questo pomeriggio nella Sala Convegni della Cittadella Fieristica alle Maglia Novembrina 2011 fa registrare buoni numeri 250 espositori, 350 stand occupati. Ciò è tutti, considerata anche la tradizionale Fiera di San Martino collegata alla Novembrina che sarà popolata quest'anno da 400 espositori. Il commissario straordinario Emaia dell'Edi Rosa non può che essere soddisfatta anche in considerazione che ciò che oggi si vede è solo la punta dell'iceberg. Nei mesi scorsi molto si è lavorato per ammodernare i capannoni e migliorare i servizi. Il lavoro tecnico è veramente stata la parte principale di tutta l'attività del personale dell'Emaia e come vedete avremo una fiera quasi rinnovata. Il sindaco Peppe Nicosia invece punta l'attenzione sulla rinforzata collaborazione con la provincia nissena in seguito alla firma del protocollo d'intesa tra Emaia e comuni di Gela e Niscemi. Questo accordo si consolida e continuiamo ad allargare i confini della Fiera Emaia tra l'altro istituzionalizzando quello che era un'adesione spontanea delle precedenti edizioni oggi invece un vero e proprio protocollo d'intesa che unitamente alla Camera di Commercio di Ragusa vede come partner anche importanti enti istituzionali di fuori provincia. La fiera apre i battenti sabato pomeriggio alle 16 per chiuderli domenica 13 novembre alle 23 con la tradizionale fiera di San Martino. In mezzo ci sarà spazio anche per la fiera del bestiame domenica 6 e per numerosi convegni.